una grande festivale bella città felice essere qua tanto felice quando ha iniziato a recitare no raccontaci un po dell'esperienza di terra mara e del tuo personaggio di cetino si dopo conservatori ho iniziato terra mara prima di terra mara ho fatto due tre advertising ma non tanto grande ma terra mara il mio primo progetto in televizia ma un progetto grande una progetta bella una storia tanto forte la tua esperienza invece sull'isola che hai vinto come è stata è lì che hai imparato l'italiano ho passato il mio limite ma una grande esperienza difficile difficile essere a fame senza parlare con la famiglia difficile esperienza ma mi piace io ricordo tutto il momento della mia vita ti piacerebbe lavorare nel cinema italiano e se sì hai già qualche produzione in essere sì questo è il mio sogno questo è il mio sogno adesso ho fatto una progetta ma in televisione io sono attore io devo tornare in televisione o film come attore questo è il mio sogno grazie ariana internazionale film festival